Musica Amici di Telea1, benvenuti ad un nuovo ennesimo appuntamento con la nostra consueta quotidiana rubrica denominata Parliamone Alfrida Oggi siamo in compagnia, oltre alla tipica calore estiva e a un leggero vendicello in gradita compagnia dell'ospite della puntata odierna che è la cantante Cinzia Conso che ringraziamo per la presenza e per la disponibilità è stata già nostra ospite ed è soprattutto una presenza simpatica, giovanile e soprattutto una grande professionista ma è soprattutto anche un'amica del Frida tant'è che non a caso indossa quest'oggi una bella maglietta che ritrae proprio l'artista, la pittrice messicana, icona del pop di cui tra l'altro si è celebrato proprio la data del 6 luglio nei giorni scorsi Allora Cinzia, siamo qui per parlare dei tuoi successi parlare dei tuoi obiettivi professionali quali date attendono il tuo, fra virgolette, cartellone estivo di eventi? Allora, prima di tutto sono felicissima di essere qui in tua compagnia Allora, sono ripartiti i concerti e è ripartita la musica finalmente con tanto entusiasmo, anche un po' di paura ma è una paura che affronteremo date sì, ce ne sono, tra l'altro stasera, 16 luglio, saremo con la mia band la 1911 band al mulino quindi sarà una serata piena di emozioni una serata in nostra compagnia, con la nostra musica faremo certamente divertire le persone che saranno con noi ma anche proprio viaggiare con la testa oltre a questa data del 16 ci sarà anche il 17 in piazza Roseto e il 23 luglio saremo proprio qui al Frida in compagnia dei nostri amici davvero siamo molto, molto, molto felici Cinzia, allora dicevamo appuntamento questo oggi al mulino il 23 al Frida, lo dicevi ci siamo lasciati l'ultima volta con quello che è stato un nuovo pezzo fra virgolette, che si è rivelato un successo quali novità ci sono appunto anche in campo artistico musicale sia per quanto riguarda te poi voglio dire anche che il tuo compagno di vita consentimi anche un nostro amico ce ne siamo anche occupati che vorrei che ne parlassi anche tu e soprattutto diciamo anche che estate dal punto di vista artistico musicale secondo te stiamo vivendo o andremo a vivere? Allora sicuramente andremo a vivere un'estate emozionante emozionante perché è davvero da tanto che non riusciamo a poterci esprimere quindi non abbiamo potuto esprimere la nostra arte, la nostra musica è stato un anno particolarmente intenso la canzone di cui parlavi prima è Vivi Vivi che è stato proprio un inno alla vita un inno alla positività nel senso buono del termine ovviamente è andata molto bene oltre a quello si sommano altri eventi molto belli anche molto importanti perché ad ottobre sarò presente al festival al galà dei festival di San Marino a ottobre e poi anche una bellissima sorpresa anche proprio per me perché sarò concorrente di un programma su Seven Gold che è rete nazionale e il suo nome è proprio The Coach quindi andrò a registrare delle puntate a fine luglio e noi siamo lieti che ci hai dato questa diciamo chicca, questa anticipazione su un appuntamento nazionale che poi sicuramente sul quale poi ritorneremo perché rende anche onore al territorio dicevamo sei un'artista impegnata da anni sul campo Salvatore Longobucco un nome a te certamente non nuovo e un altro artista affermato, stimato del territorio come si fa a fare arte, musica, intrattenimento per i giovani ma non solo insomma perché tutti rivolgono non solo i giovani ma le famiglie insomma a un pubblico diciamo molto vasto coniugando quelle che sono le legittime e comprensibili esigenze che si rispettano anche qui quotidianamente al Frida cioè quelle di prevenzione contenimento dell'emergenza epidemiologica quindi come coniugare divertimento e prudenza? Allora assolutamente parlavamo di Salvatore Longobucco che è mio marito tra l'altro compagno nella vita, nella musica sono ormai anni, sono più di 15 anni che suoniamo insieme per quanto ci riguarda abbiamo sempre tenuto proprio per quanto riguarda il nostro gruppo delle nostre piccole regole quindi comunque abbiamo suonato sempre come dire con il rispetto delle regole che adesso sono più importanti quindi noi saremo qui il 23 al Frida proprio nella maniera più pulita che ci sia con le normative Covid avremo la nostra distanza ovviamente è un po' più difficile dover stare lontano dagli ospiti che ci saranno anche perché io ho un carattere molto attivo, solare quindi mi piace proprio interloquire con il pubblico però lo faremo sicuramente sempre prestando attenzione a queste regole io sorrido perché tu hai anticipato la mia domanda parlavi del tuo carattere solare, estroverso quali diciamo le peculiarità? non ti chiediamo dei brani in particolare se ci sono delle linee guida se ci sono delle novità anche in quello che sarà l'intrattenimento l'offerta, sia qui al Frida ma non solo allora assolutamente è uno spettacolo nuovo uno spettacolo dove abbiamo voluto proprio avere una parte innovativa innovativa ma in che senso? nel senso buono del termine perché la gente ha bisogno di sorridere di divertirsi ascoltare la buona musica ma anche stando al proprio posto potersi comunque muovere evadere con la mente potendo proprio suffruire di quelle che sono le note musicali che accompagnano proprio ogni momento della nostra giornata quindi un repertorio molto ricco vario pop soul italiano e internazionale quindi sicuramente anzi veniteci ad ascoltare Cizza dicevi di un repertorio che si adatta alle più alte esigenze e la domanda è d'obbligo te la voglio fare perché per un attimo ci discostiamo da quella che è la dimensione locale in questi giorni io ma penso un po' tutti ci sentiamo orfani della scombarsa inaspettata di Raffaella Carrà un artista con la quale siamo un po' tutti cresciuti e che è stata capace di fare intrattenimento e soprattutto non andare mai via di moda non essere mai diciamo de modè pur non vedendola sullo schermo da un sacco di tempo il tormentone dell'anno registrato a Forza dei Marmi è Orietta Berti con Vedez e Achille Lauro stessa cosa Ornella Vanoni ecco come giudichi questa riproposizione dal tuo punto di vista con i pro e i contro se ci sono di personaggi che hanno fatto la storia del costume dello spettacolo della musica è possibile coniugare in questo modo tradizione e innovazione oppure questo non soddisfa diciamo quelli che sono i tuoi gusti allora diciamo che è possibile è possibile mettere insieme innovazione e tradizione anche se alcune volte viene mal proposta devo dire la verità perché poi soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato si cerca di proporre alla gente musica molto sì spensierata ma a volte fin troppo spensierata nel senso che comunque è come un po' buttata lì la grande Raffaella Carrà faceva spettacolo a 360 gradi e tanto è vero che qualsiasi festa qualsiasi serata qualsiasi in qualsiasi posto si vada c'è sempre la sua canzone la prima canzone diciamo Maracaibo è un intramontabile cioè è proprio il must della sua carriera quindi diciamo innovazione tradizione sì ma alle volte bisognerebbe farla con più gusto ecco una diciamo canzone musica più impegnata probabilmente allora Cinzia noi ci concediamo però vorremmo che tu leggiasse un messaggio se ti va un messaggio un saluto a chi ci segue qui da questa magica cornice del Frida perché dicevamo tu non a caso sei anche una delle protagoniste dell'estate 2021 del Frida con la tua arte allora certo io invito innanzitutto i nostri concittadini ma anche per chi sta fuori a venire a visitare questo posto il Frida è qui a Corigliano Rossano ma è un po' come andare all'estero perché offre dei servizi veramente eleganti particolari il posto è particolare ma la gente che ci sta dentro ha un cuore veramente grande e io ne sono fiera di farne parte la musica venitela ad ascoltare la nostra musica perché è proprio con quella che possiamo viaggiare pur non spostandoci dal nostro paese quindi la musica è libertà è un viaggio fatto con la mente e niente venite 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 qui al Frida e allora non possiamo che unirci a questo accorato invito e ringraziamo tanto Cinzia Conzo sicuramente torneremo a ridisturbarti nuovamente nel corso di questa estate e per commentare anche gli avvenimenti che ci saranno sicuramente anche nel prossimo mese di agosto grazie a Cinzia Conzo complimenti e grazie a tutti voi grazie a tutti